Due minuti da giocare, ma l'altro va sotto di 13 punti Evangelisti, Etherton, schiacciatona Due minuti da giocare in questo terzo quarto Amici prende e tira subito Alessandro Amici Grazie Otto, sette Evangelisti va fino in fondo, c'è Etherton coperto da Gergati, da Udano Poi va da Martin che mette dentro i due punti Martin Poi va da Martin Sì 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 Sì